Buonasera a tutti, benvenuti in Galleria Statuto 13 alla mostra personale di Rosana Brambilla dal titolo Arcana. Partirei proprio dal titolo per dare un po' il sunto di quello che è il percorso artistico che abbiamo fatto assieme, abbiamo proprio percorso assieme per questa mostra. Arcana è una mostra chiaramente che è dedicata agli arcani maggiori, che sono 22, do una piccola infarinatura, anche io mi sono fatto una cultura in merito pure non essendo un esperto, perché poi andrò più nel dettaglio tecnico-artistico che è più mia competenza, però trovo che possa essere utile, e così mi è stato detto anche da alcune persone, magari per i neofiti o per chi come me non è un esperto di arcani maggiori, minori o tarocchi, avere un minimo di inquadratura della situazione, di quello che è il tema. Quindi, dicevo, gli arcani si dividono in arcani minori e in arcani maggiori. Gli arcani minori sono sostanzialmente 22 e sono presenti tutti in mostra questa sera. Ogni arcano è la rappresentazione di personaggi che possono provenire dal mito, dalla natura o quant'altro e che hanno una profonda significazione nella carta in sé. Per quanto riguarda gli arcani minori, invece, sono 56, in totale fanno 78 e sono le famose carte da gioco, nascono con uno scopo prevalentemente ludico, qui conosciamo le famose carte dalla storia, con i semi, coppa, bastoni, spade, denari, sostanzialmente questa è la differenziazione. Per parlare un po' della storia del tarocco, il tarocco ha una storia che non è completamente definita, però tendenzialmente la si fa girare attorno all'anno 1442 d.C., quindi pieno rinascimento e ha la nascita proprio qui in Italia. Si pensa alla corte di Ferrara, quindi è tutta farina del nostro sacco. Con uno stampatore che si chiamava Brambilla. Brambilla, ecco, infatti. 1450 invece è una data molto importante per Milano perché i tarocchi sono stati riordinati e revisionati dai visconti e dagli sforza, i signori duchi di Milano, proprio nel 1450. Nella letteratura se ne è parlato molto, anche Francesco Petrarca, e lo avrete studiato tutti a scuola, parlava dei trionfi perché gli arcani maggiori hanno chiamato le carte dei trionfi. Quindi c'è una storia dietro a quello che noi chiamiamo il tarocco, ma sostanzialmente non è soltanto una storia legata a quello che poi è la visione che ne è venuta in un secondo momento, cioè quella esoterica, c'è proprio una visione dal punto di vista storico-filologico. E questa mostra vuole essere un po' un'introduzione didascalica con i bellissimi disegni e le opere che sono state fatte da Rosanna Brambilla. Andando nello specifico, una cosa che tra l'altro mi sono annotato, è fare riferimento a quello che sono le scuole di pensiero, perché le scuole di pensiero sono moltissime. Quelle che hanno dato le fondamenta allo studio di questa disciplina sono prevalentemente italiana, francese e inglese, quindi sono le corti attorno alle quali gravitava questo profondo interesse. I lavori di Rosanna, per andare più nello specifico, sono lavori che prima di tutto lei ha voluto rappresentare da un punto di vista tecnico-artistico. Quindi sicuramente vi è un contenuto che per molti è filosofico-esoterico, perché ogni carta ha un significato, e potete osservare come sotto le didascalie degli arcani sono brevemente spiegati i significati e i contenuti di ogni singola carta, proprio per darvi la possibilità di avvicinarvi, oltre che osservandola da fruitore, dal punto di vista artistico, poter capire anche cos'è il contenuto che ha scritto quella carta. Ma appunto l'obiettivo primario di Rosanna era quello di compiere un gesto artistico, quindi partendo dai disegni, e questo lo possiamo osservare proprio all'interno della mostra, nella prima sala avete proprio i 22 arcani finali che sono stati svolti da Rosanna con il suo modo di vederli e il suo segno, il suo modo di rappresentarli in maniera del tutto personale. I 22 arcani si completano volutamente su questa parete che divide le due sale con la carta del matto, che è poi l'arcano numero zero, perché è un po' dove tutto ha inizio e dove tutto termina, è la carta dell'equilibrio, infatti è una cornice anche con un colore diverso. Poi apprestandoci verso questa sala vediamo invece una scelta di Rosanna per quanto riguarda altri arcani che sono però con una colorazione fluo, quindi più grandi, più impattanti, e sotto al suo palco una selezione di quelli che sono stati i bozzetti, quindi 22 sono i bozzetti degli arcani, ma ne abbiamo selezionati una parte, ovviamente poi nei prossimi giorni saranno visionabili anche tutti gli altri in galleria, e sono praticamente i bozzetti, quindi da dove nasce il lavoro che poi giunge alla parte finale. Nella parete qui entrando a sinistra c'è una selezione di sei arcani maggiori, che però sono stati sempre dei 22, ne abbiamo selezionati sei, che però sono stati rappresentati in un modo completamente diverso, quindi hanno una matrice un po' più espressionistica, dove vi sono colorazioni che virano più verso il bianco e il nero, e ci sono meno cromie all'interno. Non per ultimo abbiamo delle rappresentazioni, quasi a modo di scultura, con questi blocchi di tiglio, quindi di legno molto pregiato, che hanno varie misurazioni, da questi alla mia sinistra che sono piccoli, a quelli medi, fino a quelli più grandi. Possono essere posizionati in modo diverso, possono essere agglomerati tra loro, ci si può un po' giocare, no? Quindi è anche questo lo scopo. Ognuno sceglie il proprio arcano, quello che più lo rappresenta, quello che poi sostanzialmente fa sentire alla persona un'attrazione anche energetica, perché non è soltanto conoscere il contenuto di un singolo arcano e il suo significato, ma è proprio sentire un'attrazione energetica verso quella singola carta e quella singola spiegazione che poi viene di conseguenza. Direi che sicuramente c'è un'attrazione verso quello che è il mondo magico dell'arcano e verso tutto quello che ha a che fare proprio con la preveggenza, ma questo è proprio un altro discorso, un discorso molto più che entra più nella fase esoterica. Quindi molte persone non li conoscono, sono attratti, però pensano che ci sia soltanto un significato dal punto di vista esoterico, invece non è così. Per concludere vorrei a questo punto parlarvi, e questo è un dono anche per te, di quelle che sono le parole dello scrittore Oswald Wirt, che è stato colui che ha scritto l'opera Magna sui tarocchi, ha vissuto tra il 1860 circa e il 1940, è svizzero, scrittore, saggista, esoterista, molto molto noto, ed è sicuramente quello che ha dato un po' la Bibbia, passatemi il termine, sulla lettura, sui significati, sui contenuti dei tarocchi. Perché io voglio chiudere con questa citazione? Perché trovo che quello che dice Wirt sia assolutamente molto in linea con l'intento che tu mi hai trasmesso durante questo nostro lavoro nella curatela di questa mostra, ossia non diamo soltanto la lettura all'arcano e quello che significa, ma andiamo al di là, vediamo proprio quello che è, diciamo, l'attrazione che ognuno di noi ha e le potenzialità che ognuno di noi ha osservando energeticamente ed empaticamente sentendosi attratto da una carta. Quindi qualcosa di più profondo, è qualcosa di più spirituale e non è soltanto qualcosa di meramente grafico o esoterico. E lui lo dice molto bene con queste parole, io tra l'altro ho questo libro che mi ha regalato una cara amica che è qui questa sera e quindi mi ha aiutato molto in questa mia ricerca, la ringrazio. Oswald Wirt dice La caratteristica del simbolismo consiste nel rimanere suggestivo, indefinitivamente e indefinitamente. Ciascuno vi scorge ciò che la sua potenza visiva gli permette di percepire. Se non si è dotati di penetrazione, non si può percepire nulla di profondo. Quindi lui dà una lettura che va oltre, cioè o uno ha questa dote o lo vede semplicemente come una carta che gli viene spiegata in base al contenuto. E siccome questo è un po' il messaggio che tu volevi dare, mi è sembrato giusto dirlo anche questa sera. Allora vi lascio a Rosanne, il suo lavoro, avete mille domande, lei è qui, quindi fate voi. Ne dico io due cosine a loro che diciamo che ad aggiungere ma pochissimo a quanto espresso da un segnalo perfettamente direi che sono in questo senso molto allineata con il messaggio di Tarocchi anche questa sera per una volta li chiamo Tarocchi proprio rispetto anche di quello che sono stati nella storia perché sono stati una veratura e un modo di trasformare alchimicamente davvero quello che può essere stato un momento di trasformazione ma anche confusione per certi aspetti in un mondo di chiarezza. Cioè paradossalmente questi segni che io induco molto nel tratto quasi ossessivo possono far confusione e qualcuno si riguarda da vicino e dice ma quanta roba c'è? Ecco, in questa quanta roba c'è io ho ritrovato le linee guida proprio anche della mia vita quindi mi hanno dato delle prospettive quindi la carta è un simbolo che non confonde anzi aiuta proprio a vedere più chiaro quindi arrivare vicino a guardarvi e dire ma perché questo mi attrae veramente? E poi stare in ascolto praticamente il disegno, il tratto aiuta ma è veramente la vostra arma che fa la differenza quindi c'è una persona un po' più commossa grazie 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 grazie